fratelli bianconeri e non buonasera a tutti voi dopo dopo non aver fatto il video ieri perché sono stato impegnato tra lavoro e varie cose stasera mercoledì sera io sono già entrato in trans venerdì quindi sono già in trans agonistica io voi direte è un po' presto ma io non lo so se sia presto ragazzi però io una cosa ve la posso dire per me la partita juventus inter o inter juventus che sia nel campionato è la partita dell'anno anche se fossimo due squadre che lottassero per la zona europa league ma per me è talmente importante per me questa partita che come se fosse una finale di champions io quando batto a loro sono veramente contento io l'ho sempre detto io sono un anti interista con il pd gris e quindi quando c'è la partita juventus inter io ho già ordinato nel caso due cartoni di ali di pane quindi nel qual caso in cui che fosse sono pienamente munito e quindi mi auguro di poter vincere anche sonoramente magari con un 3 4 0 sarebbe fantastico magari con una bella tripletta di cr7 che goduria che sarebbe sarebbe veramente una cosa molto bella da godere da tifosi ma da godere anche da sportivi perché dopo il video che puoi fare a livello di sfrotto quello che certe c'è poi ovviamente la parte sportiva e la parte sportiva sapete che generalmente in me è sempre dominante allora come la vedo questa partita come vede la partita juventus inter demon allora io la vedo in questo modo io credo che non sarà una partita così semplice come invece alcuni tifosi juventini pensano che possa essere le partite juventus inter sono sempre state solitamente partite molto combattute sono sempre state partite che hanno dato a loro modo comunque spettacolo anche se è capitato raramente che la partita fosse finita 0 0 oppure 1 a 1 strevinzito comunque sono state sempre partite a livelli agonistici molto alti quindi sicuramente non partite per signorine ma per uomini veri è innegabile il fatto che ormai dobbiamo ripercorrerla tutte le volte questa cosa perché anche stavolta mi hanno detto è modemo gli interisti parlano spalla parlano parlano ma loro fondamentalmente che cosa hanno vinto negli ultimi anni io chiaramente da tifoso juventino non posso che essere d'accordo su queste diciture perché ovviamente se andiamo a vedere l'inter cosa ha vinto l'inter ha vinto ma dobbiamo sempre fare riferimento alla stessa cosa ampiamente risaputa ormai no se noi invece parliamo del fattore unicamente sportivo è innegabile il fatto che comunque l'inter è una delle squadre più delle società più titolate che c'è in europa sicuramente ora io credo che ognuno debba essere orgoglioso per la propria storia assolutamente però io ho sentito alcune concedetemi per una volta un termine che solitamente sapete che non dico alcune fregnacce ho sentito da parte di alcuni tifosi interisti che secondo me se le potrebbero un po risparmiare perché sentirsi dire da un interista la storia dell'inter è più importante di quella della juventus o dio io credo che sia una dicitura un po pesante da dire adesso che la juventus abbia meno storia dell'inter sinceramente mi sembra molto ridicola come cosa forse chi l'ha detta era in un momento forse che aveva un po bevuto perché dire allora se un interista mi dice io sono orgoglioso della della mia storia della storia della mia società per carità tanto di cappello dire che la storia dell'inter è più importante che quella della juventus secondo me ci vuole una buona dose di coraggio a mio parere e questo non lo dico da juventino ma lo dico da sportivo ora ripeto che l'inter sia una società importante a livello europeo questo nessuno lo discute ma arrivare a dire che l'inter ha una storia più importante di quella della juventus francamente mi pare un po insomma una mezza castroneria per dirla tutta detto ciò ho anche sentito alcuni interisti pochi per dire la verità pochi i quali hanno detto che noi della juventus i tifosi saremmo spocchiosi questo l'ho sentito dire da più di un interista ora io quello che mi chiedo è il significato di questa parola cioè cosa vuol dire spocchioso solitamente a casa mia spocchioso dalle mie parti perlomeno poi non so dalle vostre dalle mie parti significano persone che si danno importanza che hanno la spocchia che vogliono tentare di far vedere di essere superiori in tutto agli altri io la intendo così la spocchia non so se è così che la intendono gli amici interisti però io credo che la juventus non stia dimostrando di essere spocchioso in questo periodo è una società che in italia vince da sette anni consecutivi ha fatto due finali di champions cioè io credo che insomma credo che se anche se è un po spocchioso sia il gioco delle parti in questo momento io mi ricordo che quando l'inter c'erano gli anni in cui vinceva e che ha ricevuto anche l'inter come perché molti tifosi hanno perché la juventus vince per i tanti favori arbitrali che ha avuto a favore ma se noi andiamo a negli anni tutte le società che hanno vinto hanno ricevuto favori arbitrali se noi andiamo a fare un riassunto dei cinque anni in cui l'inter dopo calciopoli ha vinto c'è un genio del calcio come francesco totti mi permetto di etichettarlo un genio perché secondo me totti è stato uno degli ultimissimi campioni veri grandi campioni che ne abbiamo avuto in italia è arrivato totti fino al punto di dire io contro l'inter non ci voglio più giocare c'è voglio dire un motivo ci sarà per aver detto una cosa del genere ok detto questo i favori arbitrali che ha avuto l'inter negli anni in cui vinto li abbiamo li abbiamo visti tutti ma è normale quando le squadre grandi che vincono i favori arbitrali li hanno perché adesso è stato importante l'avvento del bar perché hanno messo il bar ma la ioventus vince lo stesso adesso nessuno si potrà attaccare a dire ma la ioventus vince perché sono i favori arbitrali noi vinciamo lo stesso semplicemente perché siamo più forti e lì finisce non è questione di spocchia non spocchia cosa vuoi spocchiare quando sei più forte è normale perché ma voi pensate che altre grandi squadre quando hanno vinto non erano spocchiose è chiaro se parli di una sandoria che in italia ha vinto uno scudetto di numero è chiaro che loro non possono essere spocchiosi il napoli che l'ultimo scudetto l'ha vinto tanti anni fa nonostante stia facendo dei campionati meravigliosi e forse uno scudetto lo meriterebbe pure hanno più spocchi a loro quasi della ioventus cioè voglio dire ragazzi io penso che questa partita sia una partita importante per altri fattori ora lo sfottò lo sapete ci sta mi piace farlo mi piace riceverlo sempre nei limiti della decenza lo sapete come la penso però è anche giusto cercare di essere sportivi quindi cosa si aspetta da questa partita innanzitutto io non credo che sarà una partita all'alembaggio assolutamente perché non sono due allenatori che hanno nelle loro caratteristiche queste tipologie di gioco primo io penso che saranno due squadre che si affronteranno avviso aperto sì che ci sarà qualche azione da gol da una parte dall'altra ma ovviamente se io devo dare un pronostico mio io metto uno massimo x io non la vedo assolutamente la vittoria dell'intera torino poi ragazzi sia ben chiaro nel calcio ci sta tutto tutto può succedere ci mancherebbe però se oggi uno mi chiede un pronostico io dico assolutamente uno x per non dire poi uno fisso perché io all'intera torino non do nessuna nessuna speranza ma nessuna speranza proprio poi ripeto tutto va bene perché perché ognuno può decidere di fare il pronostico che crede gli interisti ovviamente sperano in un x2 noi speriamo in un x1 fisso perché io personalmente credo che non ci sia una speranza vera viva che l'inter possa portare via dei punti da torino mi sembra sinceramente molto difficile ma questa non è spocchia questo è la realtà dei fatti cioè la juventus ragazzi sta dimostrando delle cose quest'anno sta battendo tutti i record mettetela come volete in più mettiamo sul piatto d'argento d'oro in cui siamo adesso che ci abbiamo anche un cr7 tra di noi io non vedo come l'inter possa uscire indenne se la juventus gioca come sa per carità l'inter ha costruito una buona squadra va rispettata sicuramente la juventus non vincerà 5 a 0 magari vincerà 2 a 1 ma secondo me vince la juventus secondo me e qui parlo da sportivo il tifoso cioè a basso inter forza juve 4 a 0 per noi è tutto molto semplice da dire e da fare io ragazzi l'unica cosa che mi auguro è che spero di vedere una partita da sportivi veri da sportivi veri vuol dire vedere una partita dove non ci siano delle lotte tra tifosi spero che non ci sia l'intervento della polizia mi piacerebbe finalmente vedere una partita bella una partita vera una partita che chi vince vinca il migliore perché io ho detto secondo me l'inter non ha speranze però ripeto nel calcio ci sta tutto e tutto può succedere è chiaramente da juventino mi auguro una nostra vittoria a punteggio pieno e perché no anche rotondo è chiaro che sulla carta è ovvio che la juventus sia favorita sulla carta l'inter del resto però davanti a unicardi che tutte le volte che ci vede gli si accende l'antennino e generalmente ad ogni partita ci fa gol quindi auguriamoci che per una volta l'amico icardi continua a dormire per una volta e magari noi che abbiamo abbastanza sveglio cr7 perché no per quello che riguarda il resto signori io l'ho fatto il mio pieno perché non si sa mai ne sono arrivati due scatoloni oggi per cui non lo so vedremo vedremo sicuramente sono già in trans agonistica perché per me juventus inter è veramente la partita nel campionato italiano per il resto ragazzi ci vediamo venerdì sera mi raccomando con la live ok poi verrà postata anche sui social mi raccomando iscrivetevi ai nostri social ragazzi iscrivetevi al canale mi raccomando perché è molto importante perché più siamo e più ci divertiamo mi raccomando in live partiamo con la live un quarto d'ora prima e poi venerdì sera continuiamo ok quindi andremo un pochino per le lunghe ci vogliamo divertire vi auguro buona partita a tutti buon divertimento mancano due giorni ma vi posso garantire che due giorni quando ci sono questo tipo di partita non vedi l'ora che arrivino ma allo stesso tempo è molto veloce il periodo per arrivare lì quindi sarà molto più veloce di quello che sembra per il resto ragazzi ci sentiamo presto mi raccomando dove dobbiamo dovete portarmi a 7000 iscritti per la fine dell'anno vi mancano soltanto 25 giorni datevi da fare clic clic non ci vuole molto buonanotte a tutti